Sfida d'alta quota al Comunale, dove arriva la Sanremese seconda in classifica che non perde in campionato dal 23 gennaio. Il Borgosesia cerca il riscatto dopo due K.O. Casalinghi di fila. La cronaca. Subito in attacco il Borgosesia. Al quinto D'Ambrosio controlla bene in aria, ma conclude sul palo. Due minuti dopo il cross di Guatieri viene intercettato con la mano da Mikhailovsky. L'arbitro lascia proseguire. Risponde Gagliardi chiamando in causa Gilli. La Sanremese passa in vantaggio tra le polemiche. Conti scatta davanti a tutti, la retroguardia chiede il fuorigioco, ma il Guardalini clamorosamente tiene abbassata la bandierina e il centravanti Ligure segna. Minuto 23 Gagliardi dalla distanza mette a lato. Dopo Gilli in due tempi neutralizza la conclusione di Scalzi. Al 32esimo su azione di mischia Gilli di piede devia la zampata di Conti. Nel finale il Borgosesia prima impensierisce la retroguardia ospite con il tiro di Frana, poi le incornate di Puca e Martin Bianco. Rientrati in campo Valagussa chiama Gilli alla parata a terra. Ancora al centro delle proteste il fischetto di Portogruaro che non ravvede un contatto Mikhailovsky d'Ambrosio, l'azione prosegue e Monfrey calcia centralmente. Al 17esimo una pericolosa punizione di Areco viene messa in angolo da Malaguti. Sull'altro fronte Vita ci prova in diagonale, Gilli mette in corner. Allo scadere Vita vede Gilli mettere in angolo la sua conclusione. Il Borgosesia cerca il pareggio sino alla fine, ma festeggiare sono i Liguri che raddoppiano con Gagliardi che approfitta di un errore difensivo.